Un ringraziamento al dottor Pirabetto Pinucci, ringraziamento al dottor Ivano Mariotti, ringraziamento alla dottoressa Laura Lotti, Presidente della Mese dei Corte dei Scandici, ringraziamento al ditta Pannoni di Officina dei Sotti, ringraziamento poi all'assessore Elena Capitana, assessore delle politiche sociali e con lei ringrazio l'amministrazione comunale di Scandici e il sindaco Ferre e chi c'è sempre stata vicino all'associazione di Santanove ha dato sempre il quattrocinio alle varie iniziative. Non l'ultimo, ma faccio per ultimo e per primo nei nostri pensieri di stasera un ringraziamento a Gianni Facini, Presidente della Mese dei Corte dei Scandici, ringraziamento al dottor Pirabetto Pinucci. Grazie mille, tutti i tuoi, tutti i tuoi, bravissimi, con i direzzi dal maestro Giulio D'Aburrana per il grazio per questo canto finale, che vi presenta a Ludi, grazie davvero di cuore, buon Santanove a tutti, grazie a tutti le menti, viva la solidarietà, viva e grazie a tutti Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.